Smart 24 PA è il sistema informativo digitale pensato per tutti i dipendenti e funzionari pubblici che hanno necessità di aggiornarsi velocemente. In home page, sempre in evidenza, le notizie più importanti organizzate per materia. Con Smart 24 PA hai a disposizione tutti i contenuti delle riviste specializzate del gruppo 24 ore dedicati al mondo della pubblica amministrazione, il sole 24 ore, i riferimenti di legge, brassi e giurisprudenza, gli strumenti operativi, i quotidiani tematici, i quesiti dell'esperto risponde. Smart 24 PA è un sistema di ricerca intelligente che, grazie all'analisi semantica del testo e ai filtri per affinare la ricerca, garantisce risultati mirati in tempi di risposta ridotti. Puoi utilizzare il servizio di newsletter per avere sempre a disposizione la sintesi di ciò che più ti interessa. Rimani aggiornato sul mondo della pubblica amministrazione in modo facile, veloce e completo. www.smart24pa.com